ciao a tutti oggi prepareremo la pasta fredda con salmone il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono pasta corta salmone affumicato yogurt bianco panna da cucina olio evo menta fresca scorza di limone acqua e sale diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo yogurt la panna il salmone la scorza di limone e l'olio ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 3 mettere da parte in una ciotola capiente senza lavare il boccale mettere l'acqua il sale ed azionare il bimbi per 8 minuti 100 gradi velocità 1 aggiungere la pasta e cuocere per il tempo indicato sulla confezione nel nostro caso 11 minuti 100 gradi anti orario velocità soft scolare la pasta e trasferirla nella ciotola amalgamare bene lasciare raffreddare aggiungere le foglioline di menta e servire pasta fredda con salmone grazie e alla prossima ricetta salmone grazie a tutti Grazie a tutti.